Abbiamo una catena di festival del cinema, anche minuscoli, anche specialistici, ma tutti straordinariamente effervescenti di successo e abbiamo ovviamente il B-Fest, che è un momento per noi di esibizione, di un'intenzione politica, che non è quella di costruire passerelle per potenti, ma è quella di scubare in un territorio un'anima produttiva di tipo nuovo, un'anima produttiva che sappia volgere lo sguardo alla cultura per attingere ispirazione, per pensare l'economia, per pensare la socialità, per ridefinire i confini della comunità. Ieri ho ricordato un episodio che vorrei ricordare anche oggi. Sono nato nell'epoca in cui c'era l'avevo obligatoria, ho fatto l'obiettore di coscienza presso l'Arci, per le persone che si ricordano di me senza il capello bianco, e il mio ufficio nell'Arci, dove l'obiettore di coscienza era accanto all'ufficio del presidente di Arci Caccia. Avevo il nemico accanto, potete immaginare quali fossero i miei sentimenti già allora nei confronti della caccia. Ogni mattina ero animato dagli intenti bellicosi, essendo stato soprattutto da adolescente un polemista militante, e un giorno mi hanno detto chi era il presidente di Arci Caccia. Perché io anche durante queste contesti dialettiche, guardandolo, avevo la sensazione che mi ricordasse qualcuno, o che fosse qualcosa. Il presidente di Arci Caccia era Carlo Fermaniello, l'attore che interpreta il consigliere comunale che fa le battaglie più importanti nel film di Francesco Rossi «Le mani sulla città», anzi, Carlo Fermaniello in realtà interpretava se stesso, perché lui era stato capogruppo del gruppo conciliare comunista a Palazzo di Città a Napoli, negli anni a cavallo tra l'impero monarchico-fascista di Achille Lauro e gli anni, diciamo, di Gava. e quindi io mi costrinse un bagno di umiltà e da quel giorno il mio nemico suscitò in me un fascino straordinario. Sono molto contento di aver coltivato questo ricordo, sono molto contento del fatto che torna le mani sulla città a Bari, ma a chi fa il mio mestiere, forse piuttosto che interrogarlo sul proprio gusto cinematografico, le proprie passioni cinematografiche o le proprie più o meno false o farlocche competenze cinematografiche, forse bisognerebbe interrogarlo su cosa ha preso dalla lezione di un film come «Le mani sulla città» e quando ha avuto l'occasione di attraversare il potere, sperando di non esserne prigioniero, cosa ha saputo mettere in campo? Noi l'anno prossimo, quando spero di potermi godere il Festival del Cinema avendo un po' più di libertà, immaginiamo di poter avere nella città di Bari, mentre si avvicina a quella del 2019, che vedrà la materia capitale europea della cultura e immaginiamo i lavori, speriamo, terminati ma in corso della ristrutturazione del teatro Piccini, i lavori finanziati dalla regione per la riqualificazione del teatro Margherita, i lavori di fronte al teatro Margherita per la riqualificazione dell'ex mercato del pesce. Posso continuare? Perché o siamo in grado di pensare che cultura è un altro modo di pensare le città, un altro sguardo sul territorio. Io ho capito qualcosa del film di Francesco Rossi se ho fatto, come ho fatto, il primo piano paesaggistico territoriale d'Italia. Abbiamo meritato di poter commuoverci per quel film se abbiamo impedito che l'assalto e la speculazione del cemento fossero il paradigma di governo di un territorio, altrimenti è inutile fare un festival. Ecco questo volevo dire. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.